Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Nikos, Rossetto e Wolf e oggi siamo tornati su Brawl Stars in compagnia di Mortis Sì ragazzi, prima di registrare il video, prima di registrarlo, per sbaglio ho aperto una cassa, blu e monete subito dopo Mortis Ho provato a fare una partita, poi ci ho trovato tutti i mitici e oggi lo useremo in varie partite Allora Soprovvivenza in due facciamo e vediamo quanto riusciamo a vincere Allora, prima non ho ne vinto ne perso, vedi ancora con un mitico sono All'inizio fa 900 di danno quindi è già buono E' lento a caricarsi, questo qua lo sapevo già Allora Allora Tac, tac Allora c'è la gradova, non ho trovato Dio Pffp, fffp, fffp, ffff, fuffp, fffp Allora Uem, meio, Ok ci pigliamo questo qui ci siamo poi ci pigliamo lei ok e poi tac perfetto questo tac bravo bravo luke baste lo sai che tu muori però lo sai che muori lo sai che muore sei mi piace mortis gioco ancora vediamo un po se luke baste non può giocare peccato peccato vabbè siamo riscolti a combo ma tutti i forti li stanno trovando ora allora 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 tac 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 no 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 pensavo che era il mio amico non ci posso credere no 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 e vabbè un po' di un po' di un po' mortis 150 150 ok non c'è prima ancora la casa perché sappiamo che non ci troviamo niente ok perché ho già trovato mano non ci posso trovare altro avevo una ero basso per trovare un mitico io proprio basso una percentuale bassissima e invece l'ho trovato mortis è veloce ta 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 avanziamo di uno due e scappiamo perché ho sbagliato non c'è nessuno e arriva e vabbè capita 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 sempre e vabbè e vabbè bravo scappa via 3 2 1 volevi solo mortis mortis wow come è scappato quello è il primo più 4 mortis grado 2 ok ho una fretta di aprirmi questa bellissima cassetta ma non lo faccio dobbiamo continuare dobbiamo farlo salire di grado in questo video dobbiamo farlo arrivare di grado di grado 20 sto scherzo non ce la faremo mai no toc 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 bravo aspettiamo aspettiamo piziu 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 c'è un app che mi continua c'è uno che si chiama amico non dovevo andarci avevo solo due power up dovevo andare tenta stecca brock brock attento stecca nasco io giro di qua andiamo di cattiveria proprio noi di cattiveria di cattiveria di ca di cattiveria attacca dai che te l'uccido no non ci credo 600 no do usciremo mai ad arrivare primi più o meno in raffagemma abbiamo piper e jesse quindi un mitico un epico è un cammino dei trofei scappa subito è morti se buono qua perché cosa sova così poi vieni qua poi vieni qua poi te ne scappi poi scappi uccidi e tonico sono no 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 che sfida no 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 ok perché vengono tutte da me le api la uccidiamo ma è vero la ultima così wow 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 13 ok vittoria anche in raffagemme più 6 e ci portiamo mortis al grado 3 60 monete dopo aver trovato mortis voglio vedere qual è la mia percentuale di trovare il brawler allora per i brawler epici 0,5472 mitici per l'abilità stellare un sacco oh se ci troviamo altri brawler qua dentro io mi suicido 21 monete e vabbè non ci troviamo niente ho appena trovato mortis mi sono anche messo subito la mia fotina mortis ecco qua allora facciamoci un'ultima partita in rapina vediamo come va quest'ultima partita che faremo ok peli e broc ok è super raro che vengono ah è vero questo è rapino sono stupido sono stupido via 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 muori non 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 Sì. Sì. No, 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 scusate, è stato zitto, ma... Ero un po'... Impegnato. Dobbiamo ucciderlo. Prendiamo anche questo Brock. Ha! Andiamo qua, ci prendiamo quella, poi ci prendiamo quella così, no, 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 e perdiamo. E perdiamo, 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 perdiamo. Zero totali proprio, perdiamo proprio, no. Non dobbiamo gufare, ma... No! 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 Colpisci me! Vittorio! Vittorio! Ok ragazzi, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi, attivate la campanellina se volete sentire altri miei video. E mettete tanti tanti mi piace, condividete questo video con tutti i vostri amici. Ciao ragazzi, alla prossima!